L'esordio alla regia di Laura Chiossone si apre con un'opera prima che è a metà strada tra documentare e fiction. L'autrice nella sua storia riesce a mescolare molto bene realtà e palcoscenico seguendo diversi stili registici e drammaturgici. Da una parte abbiamo Gianna Coletti che interpreta se stessa nel ruolo di una donna di mezza età, attrice di teatro, con uno spettacolo da portare avanti e l'anziana madre, Anna, con qualche problemino di salute. Dall'altra invece abbiamo la storia di Gianna e di un gruppo di attori alle prese con la preparazione di una commedia farsesca teatrale che vede la stessa attrice mettere in scena un episodio molto simile a ciò che sta vivendo con sua madre. Una storia commovente che parla dell'unione tra due donne che riscoprono una nuova intimità, uno strano gioco di dipendenze reciproche portate allo scoperto dal passare degli anni e dalla paura di perdere le persone care. Ma Gianna è un'attrice, la vediamo portare anche sul palcoscenico parte della sua vera vita in modo intimo e personale e lo spettacolo insieme a lei si barcamena tra mille difficoltà. Parallelamente il film cerca di raccontare le fatiche che bisogna affrontare oggi in Italia per riuscire a fare teatro e la storia di questi attori che decidono di proseguire sul loro cammino nonostante i finanziamenti allo spettacolo tardino ad arrivare è una dimostrazione pratica ed esemplare della voglia di fare buon teatro e portare freschezza nel panorama culturale italiano. Una storia vera e reale da una parte e un'altra ripresa è riportata avanti in uno spettacolo teatrale. Da dove ha origine e come nasce un film di questo genere? Nasce dalla realtà. Io ho conosciuto prima Gianna e poi la mamma di Gianna mi sono innamorata della loro relazione, del loro legame che è un legame di cura e dipendenza reciproca perché la mamma di Gianna non è più autonoma, ha 93 anni e sono 15 anni circa che Gianna fa dei salti mortali notevoli per occuparsi della sua mamma e è diventata un po' la mamma della sua mamma. Cos'è che mi ha colpito di loro? Che in questa situazione comunque non semplice, difficile, sono esplosive, sono divertenti, fanno ridere della loro fatica. Che reazione ti aspetti dal pubblico che guarderà questo documentario? No, infatti, non che mi aspetto, guarda noi abbiamo fatto già parecchie rassegne, abbiamo vinto anche dei premi importanti e tutte le volte la gente, moltissime persone, specialmente le donne, ma venivano a ringraziarci perché quello che avevano visto evidentemente le aveva emozionate e poi si erano identificate e probabilmente nella protagonista questa relazione con la madre oramai quante donne sono in questa situazione, però per loro evidentemente è stata proprio una grande e bella emozione, escono con più forza, questo ci dicevano grazie, grazie, ci avete aiutato, ci sentiamo più forti comunque nel continuare questo tipo di vita che non è semplice. Beh, questo è già un grandissimo risultato, noi ci aspettiamo che tutti, lei che è uomo per esempio, ha avuto qualche tipo di… sì, guardi, le dico soltanto questo, allora, noi abbiamo, tra parentesi di questo premio spesse volte non ne parliamo, non so perché, abbiamo proiettato questo film inserito in una rassegna, perciò c'erano altri film, al carcere di Bollata, erano tutti uomini, signori, che l'hanno visto, beh, sono impazziti, va bene? Mi spieghi come è avvenuto il passaggio dal mondo degli spot e dei videomusicali fino alla regia di un lungo metà? Non è un passaggio, nel senso che fare un film è il motivo per cui ho iniziato a fare regia, fare spot, fare videoclip, fare documentari, tutte le altre cose che ho fatto, è un modo per arrivare a realizzare questo sogno, per imparare nel frattempo, per guadagnare dei soldi, per pagare l'affitto e per provarmi tecnicamente, per imparare a dirigere.